ogni tanto mi capita di citare l'editrice nord nei miei video nei miei post allora mi sono detto perché non parlare nello specifico di qualche titolo di qualche libro visto che ne possiedo fortunatamente diversi e quindi eccomi qui quindi capiterà che vi parli di specifici romanzi o della mia libreria o della mia libreria digitale perché perché alcuni titoli pochi ahimè sono stati poi ripubblicati in italiano da altri casi editrici questo è il caso per esempio di david gemme del ciclo dei drenai di cui vi parlo oggi mentre altri rimangono pubblicati solo dalla nord e quindi trovabili solo nell'usato e da collezionisti come ho spiegato in altri video qui sul canale fortunatamente gemme che uno dei migliori autori fantasy a mio parere mai comparsi su questo nostro pianeta purtroppo c'è anche lasciato prematuramente per una brutta malattia è stato ristampato da fanucci e quindi come vedete è disponibile anche in digitale con le copertine che ahimè non valgono un decimo di quelle che erano le editrice nord ma va bene cosa ce ne faremo una ragione purtroppo le spade dei drenai è ambientato cent'anni dopo la leggenda dei drenai di cui io ho parlato molto tempo fa credo in un video forse in un podcast è un libro autoconclusivo questo potete leggerlo anche se non conoscete il romanzo precedente anche perché è ambientato cent'anni dopo la leggenda dei drenai vi faccio un brissimo assunto di cosa parla la leggenda dei drenai parla della resistenza di un pugno di uomini in rappresentanza di un impero simile romano decadente in una fortezza di confine che si pone come unico argene argine all'invasione di un'orda di barbari che ricordano un po i mongoli dell'orda d'oro e questa è la trama del libro precedente a quello di cui vi parlo oggi qui sono passati cent'anni dall'assedio di dross delnok e l'impero è rinato ma l'imperatore attualmente sul trono è un tiranno un tiranno che fa uso della magia nera certo cesca che si appoggia a un gruppo di monaci guerrieri malvagi templari neri che distorcono la magia della fonte la fonte una sorta di spirito santo diciamo così nel mondo dei drenai e non solo utilizza anche degli ibridi le unioni che sono delle vengono chiamate unioni sono degli incroci tra uomini e animali e tramite questi due elementi quindi le unioni e templari neri e tramite la potenza militare controlla e soggioga il territorio dell'impero ma con metodi brutali e tirannici c'è però un uomo che si oppone a tutto ciò è tenaka can tenaka can ex guardia imperiale è un diciamo un mezzo sangue perché è in parte drenai e in parte nadir i nadir erano appunto i nomadi diciamo simil mongoli che abbiamo visto nel libro precedente quindi viene visto male sia dalla parte drenai sia dalla parte nadir come un destino un po classico classico di tutti i mezzi sangue però però è un eroe è un valoroso sa combattere e sa anche unire a sé un manipolo di combattenti che si prefiggono di guidare la resistenza contro cesca e di cercare di detronizzarlo quindi di distruggere l'imperatore seppur legittimo ma imperatore che sta utilizzando oramai da troppo tempo appunto metodi barbarici e tirannici per governare l'impero dei drenai il libro è tutto è tutto qua se si può dire tutto qua è quindi la lotta di tenaka can e dei suoi tra cui ex come litoni e avventurieri improvvisati e altri personaggi sicuramente degni di nota perché gemmele bravissimo a caratterizzare i personaggi contro un impero molto potente e dotato di risorse anche soprannaturali come come avete visto da quanto vi ho raccontato la storia è epica e allo stesso tempo pensiamo così triste tutti gli eroi di gemmel hanno una duplice di protagonisti delle storie di gemmel hanno una duplice personalità sono appunto eroici sono condottieri allo stesso tempo hanno un triste destino o delle tristi origini come nel caso di tenaka can per le sue origini familiari e tuttavia ciò li rende ancora più interessanti e ancora più memorabili così come tutti i personaggi secondari che combattono per tenaka canna al suo fianco hanno delle peculiarità nel background e hanno degli sviluppi nel corso della storia anche quando alcuni di loro soprattutto quando alcuni di loro devono fare delle scelte che spostano spesso dei sacrifici a costo proprio della loro vita per poter portare avanti la causa a cui si sono uniti la classica causa che sembra la causa dei perdenti come capitava appunto nella leggenda dei trenai quando appunto un manipolo di guerrieri guidate dall'eroe però stanco e veterano drus sia opposto a questa orda di invasori barbari che dire forse è un po meno epico è un po più triste del precedente la spada dei trenai rispetto alla leggenda dei trenai ma è una lettura assolutamente ottima allora david gemmine ha uno stile particolare se non lo sapete ve lo racconto io lui ha delle pennellate molto asciutte nelle descrizioni si specializza nella caratterizzazione dei personaggi e dei protagonisti nei combattimenti e nello sviluppo psicologico senza però di abbordare in inutili pipponi dei protagonisti stessi quindi è un vero narratore magari non ha uno stile raffinato ma uno stile che coinvolge sa raccontare storie in sé semplici e se vogliamo anche prevedibili rispetto a quello che il fantasy moderno ma decisamente azzeccate il ciclo dei trenai sarebbe in buona parte da recuperare adesso non so quanti dei volumi sono stati ripubblicati da fanucci sicuramente diversi sicuramente trovate la leggenda dei trenai che vi consiglio di recuperare assolutamente come vi consiglio di recuperare questo è un genere di fantasy che piace a molti è poco raffinato non ci sono razze semi umane non ci sono elfi non è tolkeniano non ci sono nani e orchi c'è però nell'evento fantasy c'è una magia che è quasi una magia però psionica una magia deriva dal misticismo dalla spiritualità e dalla distorsione della medesima quindi una sorta di spiritualità misticismo nero il che lo rende a miei occhi molto affascinante poi a contrattare questa ambientazione come avete visto quasi storico pseudo storico perché l'impero dei trenai fa il verso a quello romano all'incirca in a dir sono chiaramente di ispirazione appunto mongola e poi ci sono altri popoli che ancora richiamano a varie etnie e popolazioni del nostro passato della nostra storia tutto però è molto bello è un mondo secondario limpido se vogliamo nella sua costruzione senza particolari orpelli che si concentra però sulle vicende sull'eroismo sui personaggi e sui nemici sugli sui villain e tutto ciò rende i libri di david gemmell davvero molto fruibili rileggibili con piacere a distanza di anni e davvero chi scrive fantasy oggi magari lanciandosi in costruzioni particolarmente artefatte sia nel world building nelle trame dovrebbe imparare dal gemmell la formula per saper scrivere un romanzo coinvolgente in un numero limitato di parole qui siamo sulle 350 pagine senza mai annoiare io ve lo consiglio magari lo conoscete già magari siete già fan del di gemmell che a me manca molto fatemi sapere cosa ne pensate per il resto iscrizione al canale like e condivisione condividete aiutatemi a condividere questo video sui vostri social se vi è piaciuto se siete fan di gemmell e se proprio proprio volete offrirci un caffè per portare avanti ciò che facciamo con il canale lost boy show potete farlo attraverso il pulsante super grazie o attraverso la nostra pagina kofi io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima lettura e sui volumi dell'editrice nord ci torneremo qui a altre letture che sto rifacendo e di cui vi parlerò